Noi Tanti! con la posizione del palo direttamente nel corto il pittino Ancora Colombo, Anderson, Cairelli, Fuggia, Bussi, Villa, Matteo, Mastri, Perchi Versina, Valente, Fuggia, Andiamo a vedere di chi si tratta Corotta del 1-139, Nicolò Fuggia, Euno al comando Lui in seconda posizione, si infira la fetta dell'olungiate Clamasco Giovanni Maria Cairelli, grande contatto a lui Caglioli, Caglioli, Caglioli vince, vince Caglioli